non voglio farci molto raga è saltato a corrente che devo fa? che devo fa? non sto giocando il pericolo delle luci uno, due, eccoci qua, eccoci qua non voglio dire che sono pronti di appoggiarsi perché potrei questionare seriamente potrei questionare seriamente quando non salta la linea salta la corrente quando non salta la corrente non si connetta la linea Dio di quel Dio, Dio di quel Dio, Cristo favorato e accertate due schiazze che fanno Cristo non li riprenderemo mai non li riprenderemo mai 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 noi che ferme c'ho ancora così parlato di capattina che non c'è nessuno e per quattro anni niente non li facciamo più quando io lavoro che informo spento porca Dio non li riprenderemo mai non li riprenderemo mai non li riprenderemo mai con il